Giorni insieme a me E dai tuoi ma soli siamo noi in questa notte quando ormai l'ombra fugge già fra neutri e neri e poi chissà E noi adesso abbiamo un'altra sfilata Allora noi abbiamo Arianna, spero di pronunciarlo bene, Edran Che è una stilista che porterà come dire un tocco diverso all'immagine della donna ma non parlo troppo Vi lascio guardare, a voi Grazie 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 I Intanto il vento di Ponente ha sbrindellato stoppini a maschere, sconvolge e ricompone, superbo, nel moto andante maestoso si pari nuvole di stelle e di galassie. Ho smesso d'essere Clessidra per indicare l'ora di un cucù. Ma che spettacolo! Cioè, scusate, prendiamoci due minuti per osservare questo fantastico quadro firmato Arianna Edran. Mamma mia, un altro applauso ragazzi perché questo non era soltanto una sfilata ma era anche uno spettacolo. Allora ragazzi, ok, potete sciogliere, vedo iniziare a tremare le braccia. Allora, se vogliamo spostarci sul fondo noi ragazzi, invece, naturalmente Chiara Pavoni rimane qua al centro con me, una fantastica attrice che ha collaborato a questa sfilata. Complimenti, devo dire, veramente molto bello. E facciamo entrare anche naturalmente la nostra padrona di casa, la nostra Barbara Castellani, accompagnata da Arianna Edran. Sola, ma sono come Edran, togli Arianna e usiamo Edran, lei ci tiene molto. Ecco, parliamo della tua moda, del tuo fashion e vediamo alle spalle queste splendide ragazze con degli abiti. Io vedo un total black, tranne per la tua testimonial. E soprattutto un viaggio nella storia, un po' rivisitato della donna. Sì, diciamo che con i miei abiti esprimo una femminilità particolare. Mi piace pensare alle donne di diverse epoche, ovviamente rivisitandole, e far tirare fuori il loro, magari, quello che nell'epoca passata non hanno potuto dire, perché sappiamo gli storici della società. Quanto ti sarebbe piaciuto vivere? In che epoca? In questa epoca. In questa, quindi tu ami questa epoca. Assolutamente sì. E la tua donna come deve essere vestita in questa epoca? Sicuramente deve essere vestita della propria sicurezza e della propria, diciamo, essenza. E quindi ogni donna è meravigliosa per quello che è, quello che può esprimere. E quindi io lo racconto a modo mio, insomma. E in che modo? Ci piace davvero moltissimo. Siamo un gioco di wall, di tessuti, rigorosamente made in Italy per una stilista. Assolutamente. Al di là del tuo nome è Romana. Si può dire, lo dico Romana di Roma proprio. Romana di Roma. Ci piace, ci piace. Romana di Roma, bella merace. Siamo degli studi di Roma e quindi si può dire, assolutamente. Allora, volevo ringraziare un secondo Chiara, che è la mia testimonia. Mi segue in tutti i miei progetti e io ti ringrazio pubblicamente perché sei straordinaria. E tra l'altro è una cricce. Abbiamo sentito anche la sua voce. Ci risveglieremo un po' confuso. E tu, tu, tu mi inviterai in fine mia al brivido più lungo.